Inizia a piacermi un pochettino meno l'assistente segreto numero 2, te lo dico proprio secco secco all'inizio del video Allora, quest'oggi abbiamo tre porte, ok? Ok Ogni porta, ti vedo preoccupata, decide che tipo di tsunami ne dobbiamo affrontare Alla sinistra abbiamo lo tsunami d'acqua classico Zitto Ti ricordi che li avevamo già affrontati, che ci eravamo scontrati, che è finita malissimo, che i mondi sono esplosi, Steph? Perché li stiamo rifacendo allora? Non lo so neanche io, questa è la domanda che dovremmo porre noi stessi Però siamo qua, dobbiamo affrontarli e distruggeremo tutto Steph, ascoltavi qua Esploderà tutto Vi è qua, Steph Sì Mettimi le maniche e salto, su, forza Non ci arriverei mai Possiamo scegliere, io sono già arreso, raga Il secchiello d'acqua classico, quindi tsunami d'acqua Tsunami d'ombra, quindi di void, credo materia oscura Del vuoto Del vuoto Che mi preoccupa parecchio E tsunami di ghiaccio Che congela tutto quello che arriva Le porte comunque sono decorate a tema, quindi si capisce anche quello che ci dovremmo andare ad aspettare Allora, tu quale vorresti scegliere? Poi ti dico quale vorrei scegliere io Argomentiamo e prendiamo una decisione Quindi quello che sceglieremo, raga, affronteremo Gli altri due no È proprio una scelta che questo oggi ha davvero una conseguenza pesante Ma quindi ne scegliamo solo uno Solo uno, sì Allora è bello sto video, questo è alle mie spalle, Steph No No, 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 no Io vorrei questo, Ferè No, io voglio questo Ferè Pensaci Allora, in ogni stanza Allora, no, no, no No, 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 no Abbiamo un battito politico Prima tu e poi io, vai Allora, il vuoto perché rappresenta l'oscurità del mio cuore, Steph Quindi mi sento attratta da questo tsunami Non mi puoi battere, era una motivazione troppo convincita È iniziata anche a piovere Allora, il ghiaccio Lo counteri facile Ci mettiamo un bel po' di lava tutto intorno e siamo salvi L'oscurità come la batti? È impossibile Lo so che tu c'hai l'oscurità nel cuore Ma poi ci creppi anche tu insieme a me lì, eh Non è che crepo solo io No, io scappo No, no, te lo garantisco Creppi anche tu Io abbraccio l'oscurità e scappo, Steph Quindi Andrò nell'oscurità insieme a tutte le creature che sono possibile a me È il tuo momento definitivo Scegli l'oscurità, davvero? Non lo so Col ghiaccio, secondo me, sopravviviamo Dai, proviamo il ghiaccio Ecco Ma è una scelta un po' da falliti, Steph Ho il tsunami che congela tutto e fa venire freddo Dai, proviamo Cioè, a luglio è il paradiso Direi A proposito Con il caldo di sti giorni Ma è più facilmente Questo è il mio Ok, allora Vediamo un pochettino cosa c'è stato dato Un sacco di cobblestone Va bene Ma la prendo tutta, sì Boh, io sì, io esagero Se c'è tutta vuol dire che la prendo tutta Ci servirà E come? Eh, lava Perfetto Quanta altra cobblestone? Io non riesco a prenderla Quindi non la prendo Allora, poi Un po' di carne Ok E 32 mi bastano Le torce dovrebbero essere OP Perché teoricamente fanno scongelare il ghiaccio Non so se nel 1.7.10 lo fanno Eh, non lo so Però possono essere molto molto utili Oh, bello Il piccolo è il mio nome Ma è fantastico Sì, è il magnifico P-Cakes È vero Bello Ok, allora Questo fatto Questo fatto Queste secondo me, raga, non mi serviranno Quindi io me la gestisco all'incirca in questo modo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hai 9 secchielli di lava, Ferre? 1, 2, 3, 4, 5 Me ne ci stavo Prendili tutti Prendili tutti Devi togliere Eh, non c'è spazio Togli cobblestone Perché secondo me sono utilissimi Tieni le torce Ferre, ma le torce le puoi sommare tra di loro Fino a 64 Eh, va bene, Steph Ci sono Non rompere Mi sto organizzando l'inventario, ok? Basta Già stiamo facendo uno che io non ho scelto Non ci ho pensato che li potevo sommare, ok? Le scale ci servono Io ne ho preso Però possono bastare le mie volendo Vabbè, prenditene 64 No, 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 non le voglio Dai, prendile No, 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 no Io sto andando senza di te, sono partito Andiamo Allora, ho seguito una strada che porta qui Che chiaramente è lo stesso punto che porta agli aggessanti Come si esce? Ah, dall'altra parte Ok A posto E poi devo andare di qui Ok, Ferre ti prego Cos'è il corridoio della morte, Steph? No, praticamente adesso entriamo In un posto gigantesco Ok Ok E qua è dove noi dobbiamo costruire la nostra costruzione anti tsunami di ghiaccio Ma una fine? Ah, sì, se va avanti è una fine Abbiamo otto minuti Ok Per costruire un qualcosa che ci permetterà di sopravvivere C'è un teleport, Steph, lo prendo? No Perché? No, perché quello Ti vedo, Steph Vai lì giù, guarda, vai, cammina Ma quanto c'è l'altra? Eh, poco Eh, ti vedo Ecco, sono lì sopra Ciao, sì, sei simpatica Bello, così vediamo poi lo tsunami dall'alto Ok Allora, ci serve un'idea Allora, ragioniamo Dobbiamo collaborare e sappiamo tutti quanto sei scarso Quindi, Steph, impegnati per una volta nella tua vita Ok No, Steph Cosa stai facendo? Pensavo mi stessi murando Me ne vado dalle mure, vinco Steph, non vale, scendi, dai Steph Ciao, Fede Fatto Finito lì Allora, secondo me dobbiamo fare una bella muraglia in pietra Mettere delle torce in qualche punto tattico E lasciare anche della lava Ognuno per sé? Come ognuno per sé? È una bella tattica Dai, Steph No, dobbiamo collaborare Vieni qua Ma io sono nel posto giusto Ok Perfetto In questo modo Sono in altissimo Perché perdere tempo Ad andare verso l'alto Quando posso creare da qua Il mio castello Se il ragazzo sta facendo la sua costruzione Fede, parla almeno Ti prego Fede Dovamo farlo insieme Se non l'hai voluto fare insieme Io ti mollo Sì, Fede Ma io fra poco metto la lama No, non mi rompere Ti squaglia Comunque abbiamo solo 8 minuti per costruire E per arrivare lo tsunami, ragazzi Un timer proprio già avviato Da quando noi siamo entrati in quella porta Non l'ho detto a fare perché mi sono dimenticato Ma come c'è un timer? C'è un timer E tra 8 minuti tondi parte lo tsunami Allora, io mi metto qua sopra Diciamo che ti devi sbrigare abbastanza Facciamo delle torce tutto intorno Aspetta Allora, facciamo così Secondo voi, iniziate a scrivere nei commenti Chi sopravviverà tra Steph e Fere? Scommettete Vediamo un pochettino Sono proprio curioso di vedere Guarda Steph che la sto facendo È una costruzione magnifica Oddio Ok Penso che ci sarà più il mio nome di quello di Fere nei commenti Sì, ma non vale Perché tu non dovevi andare lì in alto E chi l'ha deciso? Io Lo devi affrontare qua Non vale andare così in alto Guarda che è altissimo Ma, cioè, ti rendi Aspetta, ma ti rendi conto quanto sarà alto? No Minimo dove sono io Forse anche più in alto Oh cavolo, non ho speranza È quello Ma è ovvio Le mie scale ci sono ancora Se vuoi salire Io No, vado sopra Allora, diciamo che questo Lo lasciamo qua come prova Per vedere che fine fa, no? Va bene, va bene Allora, dai, te lo lasciamo passare Quindi stavi soltanto facendo la scienziata, giusto? Perché vuoi scoprire il fenomeno dello tsunami? No, vediamo se adesso le torce Lasceranno la mia costruzione intatta E quindi studiamo anche gli tsunami Per capire Sì, sì, sì Come possiamo avere È un ottimo progetto la scienziata Certo, sì, lo so, grazie Complimenti, complimenti Ha avuto un'ottima idea Davvero brillante Ma come ci arrivo? Un saltellino Come on No, mi bie l'ansia Ok, ciao Fere Allora, mi prepara anche la lava Eventualmente da tirare Ma che è da tirare? Sì, certo Fere, ho tutto un piano No, non romperevo Fere, io mi sono studiato Come sopravvivere a quest'oggi Tu non hai studiato Io sono pronto Da sto punto Lo stavamo pensando tutti Abbiamo capito che te lo meritavi, Steph Steph, come si dice? Lo spocchione Ok? Dovevi smetterla Non teletrasportarti, Steph Non devi tornare Torna a prenderti tutte le tue cose Ti odio Hai fatto un disastro Ce l'hai ancora? Ah no, c'è tutto Dovevo scendere Ti informo che gli 8 minuti Le mentre stanno passando Lo so Eh, appunto Uffa Ma tu sei antipatica Steph, lo stai facendo tu l'antipatica No Te lo sei meritato Fere, che cosa lanci? Ho lanciato a te Ho lanciato a te Allora Arrivo Dove sei tu? Sopra Sto aspettando, Steph Sei lento Allora, mi voglio aumentare La render distance Perché poi quando arriva Lo faccio anche io Mi lo voglio vedere Quindi fammi vedere Ma cavolo, ce l'ho già 12 Quanto la devo mettere? Quanto mi sta antipatica 16, il massimo Com'è? Scatta? Eh Vediamo se riesce a caricare fino alla fine Ci sta mettendo una vita Ma no Io adesso così Faccio il saggio, raga Allora Sì, no, è meglio, è meglio, è meglio Piccone Ok Quindi stavo continuando ad allargare la nostra base Prima che Fere decidesse di interrompere la mia fase creativa Andiamo a allargarci ancora? Eh No, secondo me può andare bene così Ok Dopodiché Si creano delle mini torrette Ok Ok Anzi, è proprio una muraglia questa Facciamo che è proprio una muraglia Da altezza 4 Ok Ok, quindi cerca di seguirmi Pa 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 E adesso ti spiegherò il perché di questa muraglia Ok Ok Per di più noi possiamo sfruttare le ladder rimaste Quelle che ci sono avanzate Per fare che comunque qua possiamo anche salire In modo tale che ci possiamo tornare quando vogliamo Continuiamo a tappare E fra poco vi faccio vedere qual è la mia idea per sopravvivere ad uno tsunami di ghiaccio Ti informo Fere che comunque manca 3 minuti Wow Vabbè, di già ci siamo Ti senti al sicuro? No E anche io Cioè se mi hai detto che può essere anche più alto di questo Non lo so Beh, la muraglia spero che sia quella extra sufficiente nel caso E dopodiché la lava è l'ultimo colpo per sopravvivere Certo Proprio il colpo di grazia Ovviamente Che batterà il ghiaccio Ok Allora, mettiamoci le scalette Così possiamo salire e vedere tutto quanto Vedere la nostra morte che si avvicina E ci prende Oplano Dobbiamo anche salire per altri motivi Quindi adesso facciamo così Noi andiamo qui sopra Ci esponiamo un bel po' Mi chiamano al telefono No, scusate Dobbiamo affrontare uno tsunami Sarebbe stato bello rispondere chiunque sia E dire scusa sto affrontando uno tsunami Ci sentiamo dopo E chiudere Oplà 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 Era anche mio fratello Quindi avrei anche potuto farlo Con mia madre mi avrebbe guardato peggio Allora Ma tuo fratello avrebbe riso Esatto Le sale con Cioè ci segue Quindi lo so Eh Ok, allora Sì devi fare questa sentita cosa cara Questa qua sarà la cascata Ma no Steph Lì c'è il mio No Quindi da questa parte Per essere noi moriamo per la tua falla Non ti perdonerò mai Questa è una terribile Lo volevano vedere tutti Se la mia costruzione No Sarebbe Qua tutti ci vogliono vedere sopravvivere È diverso No, ci vogliono vedere tutti morire Perché fa più ridere Scusate Ovvio Eh che cavolo Diciamo le cose come stanno Allora non voglio far ridere questo oggi Voglio sopravvivere Ok, Steph Per me è una bella struttura Eh Non si può accelerare O dobbiamo aspettare con ansia Gli otto minuti che finiscano Ma è una cosa terribile Cioè è come se in un film La gente inizia a dire Dai Ormai facciamola arrivare Sto tsunami Su Sì preferirei Se sei pronto È meglio non aspettare Perché l'attesa è quella che ti uccide Capito? Quello è vero Anche io odio le attese Eh appunto È una cosa che non sopporto Ad esempio se devo prendere un aereo Il momento peggiore è l'attesa Esatto Non è quando lo prendi Ma è l'attesa È vero Quello è vero Ok Comunque sto facendo anche l'atto io Perché secondo me Anche da l'atto è pericoloso Fatto pure io Anche da l'atto è pericoloso Eh ok 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 Credo che così possiamo sopravvivere A questo punto L'altra cosa che io andrei a fare È questa Ok Ok Me ne sono avanzate Non è la difesa più bella esteticamente Che ci sia mai vista Ma deve essere funzionale Dai Però deve essere funzionale Noi dobbiamo riuscire A sopravvivere Ok Perfetto Mangio la carne Ci siamo E credo di sì, Fere Fa molto ridere questa base Vero? Ma lo zunami è già arrivato fino a terra? Sì, 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 sì La lava, non lo zunami Eh, scusami Quindi abbiamo lava su tutta la muraglia che ci difende Queste torce che ci tornano al caldo Stai qua, ti dico Anche qua Anche qua Ok, ok Anche qua Così, così Muoviti, basta, Stef Se si congela la nostra base almeno poi si scongelera di nuovo E potremo continuare a vivere Altrimenti non abbiamo neanche una casa Quindi dobbiamo difendere anche questo posto E mancheranno 30 secondi Quindi Fere fra poco lo vedrai partire Oh cavolo Sono abbastanza in ansia Però dai, secondo me Ce la possiamo fare Mi sembra che abbiamo creato una bella struttura Che ho creato una bella struttura Non rompere la mia era bella Perché Fere Ma l'hai distrutta Ha fatto sbattando delle torce per terra E niente Aspettiamo Aspettiamo Qualcosa mi dice che sta arrivando lo tsunami Come sempre, raga, è bagatissimo Ma noi lo conosciamo bene Perché è troppo Troppo maestro A livello di altezza però ci siamo A livello di altezza secondo me stiamo reggendo Allora io ve lo dico Se scompariamo È perché è crashato tutto In realtà mi ha già crashato una volta Mentre stava arrivando lo tsunami No, mentre è iniziato Sono rientrata al volo Esatto Steph è crashato subito Non appena è iniziato Ed è scaduto il countdown Quindi assurdo Io non sono crashata per fortuna Però Steph sì Allora Oh Steph lo vedo tutto buggato però Anche io Però sta arrivando Però sta arrivando Ok, arrivare Ora lo vedo bene Qua lo vedo bene a formarsi Ok 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 Ha colpito la lava? Adesso Senti ruore? Sì Sì Ok Ci abbiamo fatta? Eh ma siamo molto più in alto Io te l'avevo detto Steph Eh ma Intorno cosa succede? Eh non lo so Ah Praticamente Ci ha bypassato Vedi? Guarda da questo lato È andato oltre di noi In tutta la zona In cui riusciva a passare E adesso la lava piano piano sta cercando di ribruciare tutto Ok Quindi praticamente adesso in questo momento Noi siamo Completamente circondati Mi sta pure scattando il pc Completamente circondati Dal ghiaccio Vedete? Però sembra che la lava ci abbia difeso Non abbia fatto continuare a crescere la distesa di ghiaccio E quindi teoricamente sembra che siamo salvi Allora Vediamo un attimino Sembra se non si mette a salire Vediamo Vediamo Allora Perché la parte iniziale è più alta E quindi non lo so se continua O se si mette No guarda Sembra che si sia fermato lo tsunami fare Dici Cavolo mi sta scattando tutto Anche a me tantissimo Guarda Ok Ci sono sopra Mamma mia gli scatti Ah lag Mi riesco a camminare Lag 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 Ma quindi cioè è stato semplice stavolta Perché hai fatto una base troppo alta Steph io te l'avevo detto dobbiamo farla un po' più bassa E combattercela Cioè capito No aspetta Steph si sta ancora muovendo sta roba Davvero Ma secondo me sì Ho visto qua blocchi fare Questa sopravvive È un tsunami E rompe le scatole a Steph Perché è poco eroico È stata una figata pazzesca Hai un mondo fatto di ghiaccio E tu sei ancora viva Che vuoi di più? Picchiarti No scattiamo troppo anche se ti picchio Basta Sì esatto stai ferma In ogni caso ragazzi Ci fermiamo così Ce l'abbiamo fatta Quella di ghiaccio secondo me Di 3 era il più semplice Siamo andati anche parecchi in alto Quindi siamo andati un po' troppo sul sicuro Magari ne affronteremo in futuro Un po' più complicati E stando più in basso Però comunque io sono soddisfatto Di essere sopravvissuto A un tsunami per la prima volta A tocca a fare Quando ci provavamo Moriva sempre Ci tengo a dirlo Perché comunque se lo merita Che venga ricordata questa cosa Qua sotto compagnia in altri video Iscrivetevi al canale Cliccate la campanellina Ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 Ciao